Ho visto un mare di gente girare per le nostre campagne. Ho visto donne, e poi vetri, e uomini, e poi ancora bambini. Io ho visti chi con in braccio qualcosa, e chi niente, passarsi di mano in mano qualche bicchiere di vino, e a manciate rubarsi il disprezzo che porta via il vento. Io ho visti girare a lungo, stupiti, per le nostre contrate. Alte, di cieli squadrati, ho visto i vecchi sgridati, le donne guardare i bambini, gli uomini muti. Ho visto far di loro qualsiasi cosa, piuttosto che niente, e passarsi di mano in mano bicchieri di vino drogato. Ma lì non c'è vento. Di questa gente, cosa ne faremo a questa gente? 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 Ho visto non più di 70 persone, girare di notte per le loro campagne. Ho visto donne, poi vecchie, e uomini muti, bambini storditi. Chi con in braccio qualcosa, e chi niente. Passarsi da una mano all'altra, l'ultimo bicchiere di vino, per cercare di addormentarsi finalmente, sotto un palmo di terra. Di questa gente, cosa ne faremo? A questa gente, cosa gli diamo? A questa gente, cosa gli diamo? A questa gente, cosa gli diamo? A questa gente, cosa gli diamo?